Il nuovo palazzetto dello sport di carattere sovracomunale sorgerà sull'ex area beta alla Baltera a Riva. Si tratta di un'opera pubblica promessa da anni, poi rimessa in un cassetto e infine resuscitata in occasione delle amministrative di due anni fa, che piano piano viene avanti. Entro la fine di febbraio il progetto esecutivo approderà per la prima volta all'esame della Conferenza dei Servizi Provinciali per poi passare a quello del Comitato Tecnico Esecutivo e infine tornare per la decisione definitiva ancora in Conferenza dei Servizi. L'opera non costa poco, circa 10 milioni di euro, che la proprietà dell'immobile, la patrimonio del Trentino Spa, ha già previsto a bilancio nei mesi scorsi. La struttura non verrà solo utilizzata per manifestazioni sportive, ma anche per concerti e come valvola di sfogo per manifestazioni fieristiche. L'altezza interna arriva ad un massimo di 15 metri, in regola con le norme coni per ospitare determinate manifestazioni sportive. La capienza, sulle tribune disposte su tutti e quattro i lati della struttura, oscilla tra le 2.500 e le 2.800 unità. Vi saranno 23 servizi genici a servizio del pubblico, 28 a servizio degli spogliatoi. Due ingressi separati per la zona sportiva, sia per pubblico che per le squadre e 23 locali non abitabili che si spera di poter destinare alle associazioni. L'ingresso unico è su Via Marone, nella zona foyer, biglietteria, bar e un soppalco che permette di vedere il campo di gioco.